Sono divisi anche sul modo di intendere all'otta antimafia il governatore Rosario Crocetta e il segretario del PD siciliano Fausto Raciti. Li botta risposta nel giorno della commemorazione del segretario del PD siciliano Piola Torre, ucciso insieme a Rosario Di Salvo 32 anni fa a Palermo. Il governatore sorta la politica a restare unita sul contrasto a Cosa Nostra, ma il segretario del PD lo invita a non considerare l'antimafia come una patente ad esibire. Nel corso della cerimonia di commemorazione il figlio di Piola Torre, Franco, si è rivolto a Crocetta affinché riesca a fare intitolare l'aeroporto di Conso a suo padre. Un appello subito raccolto dal governatore.